Carissimi amici, buonasera e salutato Gesù Cristo. Vi propongo la riflessione per la solennità dell'Immacolata Concezione. La solennità dell'Immacolata Concezione è sicuramente tra le feste mariane più sentite dal popolo di Dio e più vissute dai piccoli e da grandi. Sicuramente la bellezza spirituale della Madonna porta quasi istintivamente a rivolgerci a lei, Madre di Dio e Madre della Chiesa. Soprattutto nei momenti difficili dell'esistenza umana. Non a caso Papa Pio IX proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, durante uno dei periodi più difficili della Chiesa e del suo pontificato. Profugo in Gaeta, salendo al santuario della Madonna della Civita in Itri, il 10 febbraio 1849, ai piedi della Madonna, decise di approfondire il dogma dell'Immacolata e di renderlo pubblico, visto ormai la devozione popolare che già era sentita presso il popolo di Dio. Maria esce da questa definizione dottrinale come la tutta pura e bella, preservata dal peccato originale e da ogni altro peccato, perché è Madre di Dio e del Messia. Dio aveva riservato a sé questa creatura unica per rendere la degna dimora del suo figlio, fatto uomo, venuto del mondo per la salvezza dell'umanità. In questo anno 2013, questa solennità mariana, che si pone all'inizio dell'Avvento, assume un significato speciale, in quanto siamo chiamati come credenti, sulla parola di Dio e su quella del Magistero di Papa Francesco, di essere annunciatore della buona novella del Regno di Dio, del Gaudio Evangelico. Il Maria dopo Gesù è la vera buona notizia che l'umanità può accogliere anche oggi, in un mondo segnato da tante forme ed espressioni di peccato personale e sociale, da tante tenebre che necessitano di essere diradate dalla luce di Gesù e di Maria. La parola di Dio di questa solennità che coincide con la seconda Domenica di Avvento, ci pone di fronte al grande mistero della salvezza del genere umano, in cui un ruolo ed una missione particolare, assondo la Madonna Immacolata. Nel prefazio di oggi preghiamo il Signore con queste parole di gioia e di speranza per il genere umano. Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, perché piena di grazia diventasse degna madre del tuo figlio. In lei hai segnato l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il figlio, agnello innocente, che toglie le nostre colpe. Che tu, sopra ogni altra creatura, la predestinavi per il tuo popolo avvocato di grazia e modello di santità. La missione e la vocazione di Maria nel dire il suo totale sì a Dio sta sintetizzata in queste verità di fede, riservata dal peccato originale, la piena di grazia, la madre di Cristo, la madre della Chiesa, splendore di bellezza, Vergine Purissima, avvocata di grazia, modello di santità. Sono alcuni titoli mariani che acquistano significato nel quadro generale del dogma dell'Immacolata Concezione. E come tutti i dogmi della Chiesa Cattolica, essi non sono affermazioni dottrinali astratte, ma hanno una reale corrispondenza nella realtà, nella fede e nel cuore di ogni credente. Maria Immacolata è chiaro invito a tutti i cristiani a mettersi sulla strada della grazia ad allontanarsi da ogni peccato, non lasciandosi sedurre dalle varie tentazioni, soprattutto quelle della carne, dei piaceri della vita, dell'orgoglio e della superbia, che portano l'uomo alla sua distruzione, come ci rammenta il racconto della Genesi circa il peccato originale, commesso dai nostri progenitori Adamo ed Eva. Dio non lascia solo nel peccato l'uomo debole e fragile della prima creazione, ma promette già da allora una salvezza, prefigurando la presenza di Maria, la madre dei viventi, in quest'opera della redenzione, combiuta dal nuovo Adamo, Gesù Cristo, sulla croce. Infatti leggiamo, io porrò in imicizia da te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. È l'immagine dell'Immacolata che ben conosciamo nella nostra iconografia cristiana. Maria che schiaccia la testa al serpente tentatore, a Satana, origine causa di ogni male nell'uomo e nel mondo. Nel mistero della redenzione si riafferma la dignità e la libertà dell'uomo e l'uomo non è più quello di prima, perché nel sacramento della rinascita, della ricreazione, il battesimo, l'uomo viene riportato allo stato di grazia e dell'amicizia con Dio. Spetta solo e soltanto a lui, mediante il libero arbitrio, rispondere a questo amore e a questa chiamata di Dio alla vita della grazia, come ha fatto Maria nel momento dell'annunciazione. Il testo del Vangelo di Luca che ascoltiamo oggi ci fa quasi toccare con mano questo momento unico ed irripetibile della storia umana e della salvezza del genere umano. In quel tempo, leggiamo, l'Angelo Gabriele fu mandato a Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria e entrando da lei disse, Rallegrati piena di grazie, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'Angelo le disse, Non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco conciperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide e suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'Angelo, Come avverrà questo poiché non conosco uomo? Rispose l'Angelo, Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia è concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'Angelo si allontanò da lei. Il sì di Maria, cari amici e fedeli, la tutta pura e bella, il criterio morale e spirituale è la linea di condotta per ogni cristiano che vuole immettersi sulla strada della santità. Nel mistero della Pasqua di Cristo e nell'immacolato concepimento di Maria, noi possiamo comprendere che siamo realmente davanti a Dio. Se non lo sapessimo, San Paolo Apostolo lo ha scritto con chiarezza ed evidenza assoluta nel brano della seconda lettura di oggi, tratto dalla sua lettera agli Efesini, Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei Cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo. Secondo il beneplacito, secondo il disegno d'amore della sua volontà, l'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificato nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere l'ode della sua gloria, noi che già prima abbiamo operato nel Cristo. Di questa benedizione Maria è entrata a far parte dall'eternità, in modo singolare, essendo stata pensata ed amata da Dio totalmente nella sua bellezza del cuore, della mente e della sua persona, appunto tale che non essendo stata soggetta al peccato originale, il suo corpo purissimo ed immacolato è stato assunto direttamente alla gloria del cielo, senza passare per il sepolcro e il dolore della morte. L'Immacolata è anche l'Assunta, la madre di tutti che veglia sul nostro cammino e ci indica la strada per incontrare Dio e Gesù Cristo. Buona festa dell'Immacolata 2013. Si rodato Gesù Cristo. Grazie a tutti.